Sesta sezione della vita nuova di Dante Alighieri, dal capitolo ventiquattro al capitolo ventisette. Questa è registrazione LibriVox e di pubblico dominio. Ventiquattro. Appresso questa vana immaginazione, avvenne uno die che, sedendo io pensoso in alcuna parte, ed io mi sentio cominciare un tremuoto nel cuore, così come se io fosse stato presente a questa donna. Allora dico che mi giunse un'immaginazione d'amore, che mi parve vederlo venire da quella parte ove la mia donna stava, e paremi che lietamente mi dicesse nel cuore mio, «Pense di benedicere lo di che io ti presi, però che tu lo devi fare». E certo, mi parea avere lo cuore sì lieto che me non parea che fosse lo mio cuore, per la sua nuova condizione. E poco dopo queste parole, che lo cuore mi disse con la lingua d'amore, io vidi venire verso me una gentile donna, la quale era di famosa biltade, e fu già molto donna di questo primo mio amico. E lo nome di questa donna era Giovanna, salvo che per la sua biltade, secondo che altri crede, imposto l'era nome Primavera. E così era chiamata. E presso lei, guardando, vidi venire l'amirabile Beatrice. Queste donne andarono presso di me così l'una presso l'altra, e parve che amore mi parlasse nel cuore, e dicesse, «Quala prima è nominata Primavera solo per questa venuta d'oggi. Che io mossi lo imponitore dal nome a chiamarla così Primavera, cioè Primavera lo die che Beatrice si mostrerà dopo la immaginazione del suo fedele. E se anche voli considerare lo primo nome suo, tanto è quanto dire Primavera. Però che lo suo nome è Giovanna, e da quello Giovanni lo quale precedette la verace luce, dicendo, «Ego vox clamantis in deserto, parate via domini!» ed anche mi parve che mi dicesse dopo queste parole, e chi volesse sottilmente considerare quella Beatrice che amerebbe amore, per molta similianza che ameco. Onde io, poi ripensando, proposi di scrivere per rima allo mio primo amico, tacendomi certe parole, le quali pareano da tacere, credendo io che ancora lo suo cuore mirasse la biotare di questa Primavera gentile, e dissi questo soneto, lo quale comincia, «Io mi sentì svegliar». Io mi sentì svegliar dentro allo cuore, un spirito amoroso che dormia, e poi vidi venir da lungi amore allegro sì che appena il conoscia, dicendo, «Or pensa pur di farmi onore!» e ciascuna parola sua ridìa, e poco stando mecco il mio signore, guardando in quella parte onde venia, io vidi monna vanna e monna bice, venire in verlo loco là ovio era. Luna appresso dall'altra maraviglia, e siccome la mente mi ridice, amor mi disse, «Quell'è primavera», e quella nome amor sì mi somiglia. Questo sonetto ha molte parti, la prima delle quali dice come io mi sentì svegliare lo tremore usato nel cuore, e come parve che amore mi apparisse allegro nel mio cuore da lunga parte. La seconda dice come mi parea che amore mi dicesse nel mio cuore, e quale mi parea. La terza dice come, poiché questi fueo quanto stato meccocotale, io vidi e udio certe cose. La seconda parte comincia qui vi, dicendo, or pensa. La terza qui vi, e poco stando. La terza parte si divide in due. Nella prima dico quello che io vidi. Nella seconda dico quello che io udio. La seconda comincia qui vi, amor mi disse. 25. Potrebbe qui dubitare persona degna da dichiararle o ne dubitazione, e dubitare potrebbe di ciò che io dico d'amore come se fosse una cosa per sé, e non solamente sostanzia intelligente, ma sì come fosse sostanzia corporale. La quale cosa, secondo la verità, è falsa. Che amore non è per sé sì come sostanzia, ma è uno accidente in sostanzia. E che io dica di lui come se fosse corpo, ancora sì come se fosse uomo, appare per tre cose che dico di lui. Dico che lo vidi venire, onde, con ciò sia cosa che venire dica molto locale, è localmente immobile per sé, secondo lo filosofo, sia solamente corpo. Appare che io ponga amore essere corpo. Dico anche di lui che ridea, e anche che parlava. Le quali cose paiono essere proprie dell'uomo, e specialmente essere risibile. E però appare che io ponga lui essere uomo. A cotale cosa dichiarare, secondo che è buono al presente, prima è da intendere che anticamente non erano dicitori d'amore in lingua volgare, anzi, erano dicitori d'amore certi poete in lingua latina. Tra noi, dico, avvenia forse che tra altra gente advenisse e advenia ancora, sì come in Grecia, non volgari, ma literati poete queste cose trattavano. E non è molto il numero d'anni passati che apparirò prima questi poete volgari. Che dire per rima in volgare tanto è quanto dire per versi in latino, secondo alcuna proporzione. È segno che sia picciolo tempo. È che, se volemmo cercare in lingua d'occo e in quella di sì, noi non troviamo cose dette, anzi lo presente tempo, per cento e cinquanta anni. È la cagione perché o quanti grossi ebbero fame di sapere dire, e che quasi fuori i primi che dissero in lingua di sì. È lo primo che cominciò a dire sì come poeta volgare, si mosse però che volle fare intendere le sue parole a donna, alla quale era malegevole di intendere i versi latini. E questo è contra coloro che rimano sopra altra materia che amorosa, conciò sia cosa che con tale modo di parlare fosse dal principio trovato per dire d'amore, onde, conciò sia cosa che, agli poete, sia conceduta maggiore licenza di parlare che agli prosaici ditatori, e questi dicitori per rima non siano altro che poete volgari, degno e ragionevole, e che a loro sia maggiore licenza largita di parlare che agli altri parlatori volgari. Onde, se alcuna figura o colore retorico è conceduto agli poete, conceduto è agli rimatori. Dunque, se noi vediamo che gli poete hanno parlato alle cose inanimate sì come se avessero senso e ragione, e fatele parlare insieme, e non solamente cose vere, ma cose non vere, cioè che detto hanno di cose le quali non sono, che parlano, e detto che molti accidenti parlano, sì come se fossero sostanzie ed uomini, degno è lo dicitore per rima di fare lo somigliante, ma non senza ragione alcuna, ma con ragione, la quale poi sia possibile d'aprire per prosa. Che gli poete abbiano così parlato come detto è appare per Virgilio, lo quale dice che Iuno, cioè una dea nemica degli Troiani, parlòe ad Eolo, signore degli venti, qui viene il primo dello Eneida, Eole nam que tibi, e che questo signore le rispose quivi, tus o regina quid optes esplorare labor, mihi iussa capessere faz est. Per questo medesimo poeta parla la cosa che non è animata alle cose animate, nel terzo dello Eneida, quivi, da Danide duri. Per Lucano parla la cosa animata alla cosa inanimata, quivi, mutum Roma tamen debis civilibus armis. Per Orazio parla l'uomo alla sua scienzia medesima, sì come ad altra persona, e non solamente sono parole d'Orazio, ma dicele quasi recitando lo modo del buono Omero, quivi, nella sua poetria, dic mihi musa virum. Per Ovidio parla amore, sì come se fosse persona umana, nello principio dello libro ca' nome Libro di Remedio d'Amore, quivi, bella mihi, video, bella parantur, ait. E per questo potei essere manifesto a chi dubita in alcuna parte di questo mio libello, e a ciò che non ne pigli alcuna baldanza persona grossa, dico che né li poete parlavano così senza ragione. né quelli che rimano deano parlare così, non avendo alcuno ragionamento in loro di quello che dicono. Però, che grande vergogna sarebbe a colui che rimasse cose sotto vesta di figura o di colore retorico e poscia domandato non sapesse denudare le sue parole d'accotale vesta in guisa che avessero verace intendimento. E questo mio primo amico e io ne sappemo bene di quelli che così rimano stoltamente. ventisei questa gentilissima donna di cui ragionato è nelle precedenti parole venne in tanta grazia delle genti che quando passava per via le persone correano per vedere lei. Onda immirabile letizia me ne giungea e quando ella fosse preso d'alcuno tanto onestate giungea nel cuore di quello che non ardia di lavare gli occhi né di rispondere allo suo saluto e di questo molti siccome esperti mi potrebbero testimoniare a chi non lo credesse. Ella coronata e vestita d'umiltade sandava nulla gloria mostrando di ciò che la vedea e udia. Diceano molti poiché passata era questa non è femmina anzi è uno degli bellissimi angeli del cielo e altri diceano questa è una maraviglia che benedetto sia lo signore che si mirabilemente sai adoperare io dico che ella si mostrava si gentile e si piena di tutti li piaceri che quelli che l'ammiravano comprendeano in loro una dolcezza onesta e soave tanto che sapeano né alcuno era lo quale potesse mirare lei che nel principio non convenisse sospirare queste e più mirabili cose da lei procedeano virtuosamente onde io pensando a ciò volendo ripigliare lo stilo della sua loda proposi di dicere parole nelle quali io dessi ad intendere delle sue mirabili ed eccellenti operazioni a ciò che non pur coloro che la potenno sensibilmente vedere ma gli altri sappiano di lei quello che le parole ne possono fare intendere allora dissi questo sonetto lo quale comincia tanto gentile tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta con ogni lingua deve intramando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e par che sia una cosa venuta da cielo intera a miracolo mostrare mostrasi si piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender non la può chi non la prova e par che della sua labia si muova un spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira questo sonetto è si piano ad intendere per quello che è narrato ed inanzi che non ha bisogna d'alcuna divisione e però lassando lui dico che questa mia donna venne in tanta grazia che non solamente ella era onorata e laudata ma per lei erano onorate e laudate molte un dio veggendo ciò e volendo manifestare a chi ciò non vedea propusi anche di dire parole nelle quali ciò fosse significato e dissi allora questo altro sonetto che comincia vede perfettamente ogni salute lo quale narra di lei come la sua virtù adoperava nell'altre sì come appare nella sua divisione vede perfettamente ogni salute chi la mia donna tra le donne vede quelle che vanno con lei son tenute di bella grazia a dio render mercede e sua bialtate è di tanta virtù che nulla invidia all'altre ne procede anzi le faccia andar secco vestute di gentilezza d'amore e di fede la vista sua fa ogni cosa umile e non fa sola sé parer piacente ma ciascuna per lei riceve onore ed è negli atti suoi tanto gentile che nessun ma si può recarere a mente che non sospiri in dolcezza d'amore questo sonetto ha tre parti nella prima dico tra che gente questa donna più mirabile parea nella seconda dico siccome era graziosa la sua compagnia nella terza dico di quelle cose che virtuosamente operavano altrui la seconda parte comincia quivi quelle che vanno la terza quivi e sue biotate questa ultima parte si divide in tre nella prima dico quello che operava nelle donne cioè per loro medesime nella seconda dico quello che operava in loro per altrui nella terza dico come non solamente nelle donne ma in tutte le persone e non solamente nella sua presenza ma ricordandosi di lei mirabilmente operava la seconda comincia quivi la vista sua e la terza quivi ed beneliati 27 appresso ciò cominciai a pensare uno giorno sopra quello che detto avea della mia donna cioè in questi due sonetti precedenti e leggendo lo mio pensiero che io non avea detto di quello che al presente tempo adoperava in me pare mi d'effettivamente avere parlato e però proposi di dire parole nelle quali io dicessi come me pare essere disposto alla sua operazione e come operava in me la sua virtude e non credendo potere ciò narrare in brevità di sonetto cominciai allora una canzone la quale comincia silungiamente silungiamente m'ha tenuto amore e costumato alla sua signoria che sì come lì m'era forte e impria così mi sta soave ora nel cuore però quando mi toglie sil valore che gli spiriti par che fuggan via allora sente le fra l'anima mia tanta dolcezza che il viso ne smore poi prende amore in me tante vertute che fa li miei sospiri gir parlando ed escan fuor chiamando la donna mia per darmi più salute questo ma vene ovunque ella mi vede e sia cosa umil che non si crede fine della sesta sezione